Si è sbloccata la vicenda dei 19 milioni di fondi destinati agli interventi post-sisma in campo sociale. Lo ha reso noto il Vice Presidente del Consiglio regionale, Giorgio De Matteis, che sulla questione ha incontrato l'Assessore Comunale dell'Aquila Ricostruzione partecipata, Stefania Pezzopane. Si tratta di 9 milioni messi a disposizione dalla struttura del Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Carlo Giovannardi, e 10 dalla Giunta regionale, provenienti dalle donazioni. Finalmente, ha commentato De Matteis, abbiamo la possibilità di operare, dopo aver tanto atteso, a favore dei giovani, degli anziani e dei disabili. Per poter utilizzare i fondi disponibili, l'Assessore Pezzopane provvederà, entro i prossimi 10 giorni, a individuare le aree dove sarà possibile effettuare gli insediamenti per i giovani, gli anziani e i disabili, e intanto provvederà a coordinare e trovare una sintesi tra le varie esigenze prospettate dall'Associazione di Volontariato Sportive e dagli operatori del sociale. In un prossimo incontro, prima del 10 agosto, saranno definiti con maggior chiarezza il quadro e la tipologia degli interventi da effettuare. È necessaria la massima rapidità da parte del Comune, ha proseguito De Matteis, affinché non vengano disperse le risorse finanziarie messe a disposizione da Giovannardi e dalla Regione, ma è anche fondamentale che gli aquilani sappiano con chiarezza che queste risorse saranno destinate da subito alle categorie più deboli della nostra città.